Napoli il montaggio, Napoli il montaggio all'ultimo salto, mamma mia Napoli, tu ci fai morire Napoli, tu ci fai impazzire Napoli, guardate qui che fresta, guardate qui che fresta, Maggio che fa gol, San Paolo che esplode, San Paolo che esplode, stanno per venire giù i solai qui a San Paolo, trema con due, i pilastri si stanno spriciolando per questo gol del Napoli. E che fatica Napoli, e che fatica è stato Cavani che ha fatto in dentro per Maggio, che stava per buttarlo fuori e poi ha gonfiato la rete, adesso sì, adesso sì Napoli, salete sulla giostra, salete sulla giostra, che gira la testa, gira la giostra e Napoli che riaquanta il terzo posto, riaquanta il terzo posto, riacciuffiamo la Juventus, volevi scappare? Dove vai Juventus? Ti abbiamo riacciuffato? Dove vai Juventus? C'è sempre il Napoli che ti prende, dove scappi? C'è il Napoli che ti prende, c'è il Napoli al terzo posto, all'ultimo assalto, all'ultimo assalto, il Napoli ha vinto la partita. L'abbraccio di Mazzarri con tutti i calciatori, con tutti i suoi guerrieri, con quelli che hanno dettato fino al 49esimo, Palermo che è rimasto con un pugno di mosche in mano, tre punti per il Napoli, sale a 4.27, dove c'è la Juventus? Come vai Juventus? Come vai? C'è sempre il Napoli! C'è sempre il Napoli!